Ciao, io sono una veterana alunna, mi chiamo Silvia Leuzzi, della palestra Pura Vita. Oramai sono tanti anni che ho cominciato questo percorso di Pilates e posturale con Bruna, Bartolini. Io vi consiglio a tutti di approcciare a questo genere di discipline con una maestra come Bruna o comunque con uno dei maestri, Luisa, che sono presenti lì a Pura Vita, per un motivo molto semplice. Perché al di là del discorso legato ai movimenti, che quelli li potete trovare un po' ovunque, in quella palestra quello che ho imparato e imparo ogni volta è a conoscere un pochino di più me stessa, il fisico, il corpo e le sue reazioni, e ad aiutarmi a stare meglio. Ecco, credo che sia una risorsa importante che non dobbiamo perdere, perché non è correre dietro alle ultime mode, ma curare se stessi e imparare a vivere in equilibrio con il corpo e con la mente. E questo è il grande insegnamento che dà fare ginnastica a Pura Vita, con Bruna, con tutte. Grazie. E io sono molto orgogliosa di far parte di questa squadra. Grazie.